Per accompagnare i mesi del 2024 la Polizia di Stato ha scelto il celebre fotografo Massimo Sestini, vincitore del prestigioso premio World Press Photo nel 2015. Al suo stile, alla sua creatività ed alla sua esperienza è stata affidata alla realizzazione degli scatti fotografici con l'obiettivo di valorizzare il servizio quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato con lo sfondo di paesaggi mozzafiato e scorci suggestivi tra i più belli d'Italia. 12 foto che consentono di aprire una finestra privilegiata sulle bellezze del nostro paese. Il calendario è stato presentato a Roma alla presenza del ministro dell'interno Piantedosi, del ministro alla cultura San Giuliano e del capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza Vittorio Pisani. Dalle tre cime di Lavaredo alle arcate illuminate del Colosseo, dal disegno architettonico della Galleria Liberty di Milano ad uno scorcio suggestivo di Napoli, tutte bellezze straordinarie immortalate con fotografie di grande impatto visivo che descrivono l'esserci sempre che contraddistingue l'impegno di ogni poliziotto.